Chiediamo l'intervento del prefetto, il sindaco di Trani Bottaro e il presidente dell'AMIU Guadagnolo vanno fermati. Così Antonio Procacci, candidato sindaco del movimento civico Trani a capo, che con il gruppo consigliare ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per rendere conto della lettura delle carte chieste all'AMIU per approfondire la vicenda delle dieci assunzioni effettuate dall'azienda il cui socio unico è il comune di Trani. Da quelle carte emergerebbe non solo l'illegittimità di quelle assunzioni, fatto per cui il movimento Trani a capo ha presentato esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, ma anche lo stato di fallimento in cui versa l'azienda. L'AMIU è già fallita, dicono i rappresentanti della lista civica. Ad ottobre era stata chiesta la ricapitalizzazione e il comune aveva deliberato di effettuarla entro il 31 dicembre, ma quei 7 milioni di euro indispensabili per rianimare l'AMIU non ci sono. A fine dicembre anche l'amministratore unico dell'AMIU invocava la ricapitalizzazione entro 90 giorni. Al 15 febbraio però non è stato nominato neanche l'advisor per procedere a questa ricapitalizzazione. Il 13 gennaio il collegio sindacale dell'AMIU scriveva che la ricapitalizzazione sarebbe comunque tardiva, che i libri andrebbero portati in tribunale, che il capitale è da considerarsi azzerato. Il comune di Trani ha poi deciso di sostituirsi all'AMIU per la bonifica della discarica. Ai 7 milioni da mettere nell'azienda, il comune dovrebbe aggiungere 20 milioni per la bonifica della discarica. Il comune non troverà mai questi fondi e intanto fa assunzioni illegittime. Quelle del 30 dicembre, 10 assunzioni, non potevano essere fatte prima di tutto alla luce della situazione economica dell'AMIU, ma anche per difetti procedurali. Loro ci tengono nascoste tutte queste cose e il collegio sindacale afferma quello che noi, e voi ne siete testimoni, diciamo sin da, abbiamo detto ad agosto ma ad ottobre abbiamo fatto una conferenza stampa, il sindaco ci ha detto in quella conferenza stampa che noi abbiamo strappato 10 testi giuridici e oggi scopriamo che quel suo ritardo sta costando il fallimento di AMIU. E in una situazione di questo genere, con una società che il collegio sindacale dice chiaramente che non può compiere alcuna operazione, alcuna operazione perché la società è praticamente sciolta, non è in grado di compiere alcuna operazione, loro che fanno assumono 10 lavoratori a tempo indeterminato e peraltro con delle motivazioni su cui francamente se non ci fosse da piangere ci sarebbe molto da ridere. L'AMIU dal 2013 per assicurare la sperimentazione della raccolta differenziata ha chiesto a due agenzie interinali 10 operatori all'anno. Le agenzie interinali hanno chiamato sempre le stesse persone mettendole nelle condizioni di sostenere di aver avuto un rapporto diretto con AMIU. Ma non solo, quando i lavoratori hanno presentato vertenza sindacale all'azienda, questa non ha opposto alcuna resistenza in giudizio, ha indirettamente, ma praticamente, ammesso di avere un rapporto diretto con questi dipendenti, ma non ha neanche citato in giudizio le due agenzie di somministrazione lavoro. Di queste assunzioni, a parte l'amministratore unico e il sindaco Bottaro, erano tutti all'oscuro, persino la dirigente del settore finanze che avrebbe chiesto l'UMI a posteriori al fine di verificare l'ammissibilità di queste operazioni. Nel corpo del verbale sindacale di conciliazione si legge appunto che i lavoratori rinunciano anche alle azioni nei confronti delle società somministranti, cioè di etica e di generazione vincente. Quindi voglio dire, è chiaro che è stato tutto studiato a tavolino e con una rapidità pazzesca. Nella chiusura del suo intervento Procacci adombra la possibilità che questa amministrazione finisca come la precedente.